Impiegati nei servizi di necroforo, anche se in ferie o malattia, e in alcuni casi senza contratto, sono altri 32 gli addetti alle attività di spallaggio dei funerali dell'entroterra pescaresi, risultati irregolari agli ulteriori controlli effettuati dalle fiamme gialle della tenenza di popoli, nell'ambito del piano d'azione Still Jobs, contro il lavoro sommerso nel settore delle onoranze funebri della provincia. È così che il totale dei dipendenti non adeguatamente registrati nel rapporto di lavoro arriva per il momento a quota 162, di questi molti completamente in nero, alcuni anche assunti da altre imprese o addirittura disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza e delle misure di sostegno emergenziali per Covid-19. I finanzieri, infatti, nelle ditte ispezionate hanno costatato per almeno due annualità la mancanza di preventiva comunicazione ed instaurazione del rapporto di lavoro o l'infedele registrazione dei dati sul libro unico del lavoro, scoprendo dipendenti che assenti in busta paga perché a riposo, in ferie, infortunati o proprio con nessuna indicazione di impiego, dai verbali di chiusura feretro depositati nei comuni per l'occasione sono risultati invece presenti. Dei risultati investigativi, inoltre, emerso come le ditte irregolari garantissero personale per due ore circa, con un costo medio a persona di 100 euro per un servizio di trasporto dalla camera mortuaria sino all'arrivo al cimitero per la tumulazione. Ma spesso per le prestazioni dei necrofori, il cui prezzo a cerimania funebre era quindi di quasi 400 euro, non è stata emessa alcuna fattura da parte dei datori di lavoro. Nella contabilità, infatti, sono stati rimbenuti, oltre ai contributi non pagati, ricavi non dichiarati e compensi fuori busta. Le indagini della tenenza di popoli si sono concluse con l'irrogazione di maxi sanzioni amministrative che cumulativamente possono arrivare a oltre 240 mila euro e avere anche possibili riflessi penali per falso in atto pubblico.